italia viva insiste sul messe non fa nomi per il premier preferiamo un governo politico ci siamo anche per uno istituzionale quello con matteo renzi era l'incontro più atteso della giornata di consultazioni di roberto fico giunge all'indomani della riapertura del dialogo da parte del movimento 5 stelle e delle altre forze che hanno sostenuto il conte 2 al termine del lungo confronto che si protrae per oltre un'ora è il leader di italia viva prendere la parola alla camera ringrazio il presidente della repubblica perché assegnando il mandato esplorativo al presidente roberto fico permette quello che italia viva chiede da tempo un confronto sui contenuti afferma renzi parlando del recovery plan e del piano vaccini abbiamo proposto di verificare la possibilità di accordo sui temi ce ne sono molti che sono divisivi lo sappiamo ma sono tutti nell'interesse dei cittadini secondo renzi non servono riunioni notturne fino all'alba serve un metodo condiviso e un documento scritto è il punto fondamentale siamo pronti a fare la nostra parte su un documento scritto che tolga a tutti gli alibi l'ex premier chiarisce che italia viva preferisce la forma di un governo politico a quella di un governo istituzionale su cui abbiamo dato la disponibilità siamo a disposizione in questi giorni per arrivare a un punto di caduta anche perché verba vola scripta chiusa renzi nessuna indicazioni invece sul nome del premier non abbiamo discusso di nomi sono importanti ma arrivano alla fine mess reddito di cittadinanza banchi a rotelle questi alcuni dei punti divisivi nessuno può pretendere di imporre le proprie idee siamo pronti a discutere su tutto ha detto renzi ma abbiamo bisogno di un tavolo e di una comune energia per risolvere i problemi il mes vuol dire 36 miliardi che servono alla sanità siamo convinti che servano frecciata a nicola zingaretti che aveva chiesto lealtà per noi lealtà è dire nelle riunioni in privato le stesse cose che si dicono in pubblico sottolinea renzi